E la vita è proprio amarsi. Francesco, Francesco Leone di Milano, nato da una famiglia emigrata in Sicilia, dalla Sicilia, venuta qui in Lombardia per lavorare, l'ultimo di due figli. Sostanzialmente la mia infanzia è stata molto felice perché la mia famiglia mi ha dato buoni consigli per la vita, però incastrato da questi due mondi che sono appunto il mondo dei maschi e il mondo delle femmine. Non mi facevo molte domande da piccolo, però vedevo questa netta distinzione soprattutto negli anni 80 dove anche la maestra cercava di... i maschietti stanno con i maschietti, le femminucce stanno con le femminucce e poi di mezzo ci stavo io. Perché giocavo con le bambole, perché mi piaceva più giocare con le femminucce che con i maschietti, perché nonostante che la mia famiglia si facesse poche domande, in realtà la famiglia, la scuola e comunque con il mondo che mi circondava mi chiedeva il perché di determinate scelte piuttosto che altre. Però non ci davo molto peso, guardavo molto incuriosito. La cosa invece che mi... soprattutto nove anni, dieci anni è che io mi sono accorto di avere attrazione per le persone del mio stesso sesso, per quello che poteva essere attrazione a nove anni, perché comunque ti fai delle domande ma non capisci quello che è la realtà della situazione. E così ho vissuto certi sentimenti di nascosto. Ho cercato di nascondere il più possibile di me anche le persone che mi circondavano. il perché non lo so. Forse pensavo che fosse sbagliato, forse pensavo che avrei vissuto una vita più semplice nascondendolo e invece mi rendevo conto che non era così, anche perché questa cosa era come un tarlo che l'avevi sempre in testa, no? Ti ripeto, per quello che a nove anni potevi capire della vita, perché molte cose non si capiscono subito. Col tempo ci fa il callo. Nell'età delle medie, quindi nell'adolescenza, ho avuto i primi problemi proprio per questo, perché molta gente mi diceva, ma che sei ricchione? Ma che sei ricchione? E questo provocava delle ferite. Se da una parte facevo finta di niente, dall'altra parte mi domandavo ma davvero lo sono? Ma davvero è così? Le risposte non le ho mai avute, cioè all'epoca oltre a stare da solo, non mettermi ne con maschine, con femmine e quant'altro, mi sono buttato molto nel sociale per quello che si può fare a 14 anni e quindi mi sono impegnato molto nell'oratorio. L'oratorio era un ambiente sano dove si poteva creare relazione e c'erano poche domande, lì non c'erano molte, molte domande. Però ecco lì quei momenti lì li ho vissuti molto belli, perché comunque anche lì non c'erano anche qui molte domande, molte persone mi chiedevano una mano per quello, per quell'altro. Tra l'altro a 14 anni sono riuscito anche a aiutare la mensa dei poveri e non so, forse in un certo senso mi sono reso conto che nella mia vita era più semplice scappare da quello che è il mondo dei maschi, il mondo delle femmine, buttandomi a capofitto nell'aiutare gli altri e che gli altri facevano poche domande, perché o l'aiutavi o ciao, diciamo così. E quindi ho vissuto questa realtà fin quando ho detto ai miei genitori voglio entrare in convento. Ero piccolo quando l'ho detto perché avevo tipo 16 anni e mentre tutti i miei compagni, maschiette, femminucce andavano in discoteca e quant'altro, io andavo alla mensa dei poveri, andavo in oratorio, servivo messa ai vari cardinali che susseguiva la diocese di Milano, quindi il mio mondo pensavo che fosse quello, ma col senno di poi pensavo di sgattaiolare da quello che era una problematica. Mi sono creato una falsa identità, non ero io, ero un altro io che non so che cosa fosse e posso dire oggi che non mi amavo. Nel senso che cercavo di uscire da quello che era la mia realtà. Fino a che dai 16 anni ai 29 anni, vita piatta, vita diciamo così poco regolare, ho deciso di entrare in convento, di nascondere le mie problematiche attraverso quello che era il convento. Attenzione, non dico che la vocazione non sia una cosa seria, c'è gente che ce l'ha e io conosco tante persone che lo hanno come vocazione, ma la mia era fasulla, la mia era quella vocazione per scappare dalla mia realtà. Quando ho visto il macigno che si avvicinava ho pensato forse è meglio dirlo a qualcuno e l'ho raccontato anche a quelli che erano i miei superiori, ma mi hanno sempre detto non ti preoccuparti, un momento passa, non ti preoccupare che tutto si sistema, tu hai la vocazione. E così a 29 anni sono entrato in convento. La vita bella del convento, intensa di preghiera, per me è diventato sofferenza, perché non ero io, perché ero un'altra persona che non ero io. Là mi sono reso conto che la prima cosa da fare nella vita è quella di amarsi. È un'esperienza che rifarei, perché mi ha dato il tempo di pensare, di ragionare, mi ha dato il tempo di comprendere quello che sono veramente. È quello di amarsi e di uscire allo scoperto, quello di fregarsene delle altre persone e di vivere la vita per come viene e per quello che si è. Ho imparato in convento a guardarmi nello specchio, nello specchio e dire Francesco, eccoti, sei tu. E Dio ti ama per quello che sei, punto. Ti ha fatto così e sei sua immagine e somiglianza. L'invito che faccio a tutti è quello di guardarsi veramente allo specchio, non nascondersi. Amatevi per quello che siete, amatevi per quello che potete dare, perché le altre persone ti ameranno solo quando tu esciero scoperto per quello che sei. È una cosa che mi sono sempre detto, soprattutto quando ero in convento, non mi nascondo a dire che ho conosciuto un altro uomo in convento ed è stata la cosa più bella che potessi regalarmi, ma mia madre mi ha sempre detto non vivere la doppiezza, vivi la tua realtà. Non potevo più nascondere, volevo uscire da quella realtà. Così sono uscito, non è stato facile uscire, non è stato facile prendere in mano la propria vita e dire ragazzi è così e voglio vivere la mia vita, però ce l'ho fatta. Quello che posso dire è che nonostante 75 problemi che ho dovuto affrontare, la vita essendo se stessi alla luce del sole è una vita meravigliosa. Perché non devi più pensare alle bugie che racconti, perché non devi pensare a questo se la prende o questo non se la prende, non devi pensare a chissà cosa succede se faccio scappare quello che è inevitabile e vivere la luce del sole è una cosa meravigliosa e soprattutto le persone che ti amano veramente rimangono, qualsiasi cosa tu decida di fare. Quelli che invece non ti amano vanno via, è un bene che vanno via, credetemi, è un bene che vanno via. Quando ero nascosto mi rendevo conto di vivere una menzogna, una realtà che non era una realtà. E' come nascondersi dietro un dito, no? Perché poi le altre persone che veramente ti amano lo sanno e fanno finta di niente. Fare coming out posso dire che è una notizia scioccante per tutti, ma le persone che ti amano rimangono, anzi cercano di capire. Nonostante i miei genitori, come dicevo, erano siciliani e sono siciliani, mio padre mi ha detto Francesco tu sei mio figlio e ti amerò a prescindere. E questa frase, quando la sento ancora, me la ridico ancora, mi fa tremare, mi fa tremare. Perché è una persona che ha messo al primo posto suo figlio. Io sono fortunato. Mia mamma è stata un po' più difficilotta, però piano piano anche lei ha capito e ha appreso e mi ha custodito da quel momento. Credo che i miei genitori mi hanno dato una seconda vita in quel momento. Non perché mi dovevano per forza provare assolutamente, ma perché era un modo per dire Francesco ecco la nostra mano, eccoti, eccoti noi siamo qua, qualsiasi cosa fai. Perché poi tra l'altro uscire dal convento per i miei genitori, ma come? Lo vedevo già santo e invece adesso decide tutt'altro. E veramente questo è stata la mia vita, è stata la mia vita dove in qualche modo ho cercato di nascondermi, ma poi è inevitabile. Sono uscito fuori e sono uscito fuori con varie problematiche. Soprattutto all'inizio non è stato facile, perché entrare in un mondo che per quattro anni non ne facevi più parte non è stato semplice. Soprattutto mi sono accorto sulla mia pelle le persone che ti possono prendere in giro, soprattutto nei sentimenti. Poi devo essere sincero, il mondo gay non è un mondo roseo, anzi. E ho dovuto fare il callo con la realtà. Purtroppo ho subito una violenza sessuale. Purtroppo non è stato in mondo con l'applauso per quello che hai fatto, ma ho dovuto corazzarmi giorno per giorno. Voi pensate che a 34 anni ho dovuto ricostruirmi una vita, pensare a un lavoro, pensare a come gestire la mia vita e non nascondendomi più, cercando di rendere sempre trasparente tutto, anche i meditatori di lavoro. E io faccio adesso un lavoro prettamente maschile che quando sono entrato nell'ufficio dove lavoro mi dicono, no perché sai c'è gente omosessuale, io sono omosessuale, quindi che problema c'è? No ma in realtà volevamo dire, ecco quella persona che mi ha detto questa cosa oggi è il mio miglior amico oltre a essere responsabile del mio ufficio. La persona che ha dovuto ricredersi molto, un po' mi sono reso responsabile per dare l'esempio, perché il nostro mondo è un mondo un po' strano, un mondo dove si ha l'esempio di Maggioglio, si ha l'esempio di Vacattaneo, ma in realtà l'omosessuale è la persona della porta accanto, quello che ti sta accanto e senza problemi, senza nascondersi, perché la cosa brutta è il nascondersi. Mi rivolgo soprattutto alle generazioni che per anni come me negli anni 80 l'omosessualitario è un tabù, non deve essere più un tabù. Ancora oggi ci sono tante persone, soprattutto anni 70-80, che vivono nel nascondimento e quello provoca solo danni, provoca solo danni di tutti i tipi, dalla salute al raccontare palle, scusate palle ma sono molto incisivo. Il mio ambiente è un ambiente molto maschilista, ma io l'ho fatto diventare colorato, perché a volte faccio tipo gli uomini hanno la cravatta, le donne al foulard e io metto il foulard per dispetto, però faccio ridere, sono comico, oppure a volte si parla e magari dice che ne so, guarda ho visto quello lì che è un po' afferminato, c'è qualche problema, anch'io lo sono, però ecco in maniera molto ironica, in maniera molto tranquilla, faccio il passo oltre, cerco di fare il passo oltre, soprattutto con il mondo che mi circonda, il lavoro, i miei amici, perché ho tanti amici etrosessuali, tanti, tanti, tanti. E poi c'è stato l'amore, nonostante la violenza sessuale io mi sono innamorato due volte, la prima volta è stato un flop clamoroso, la seconda invece è l'uomo con la quale voglio condividere la mia vita, conoscerlo è stato forte, un impatto molto forte, l'amore è un impatto molto forte, perché pensiamo sempre che l'amore sia solamente l'atto sessuale, ma porca miseria, a me quando Marco, il mio Marco, mi guarda solo con lo sguardo a me, mi fa tremare il cuore, tremo a volte, perché sui occhi penetranti mi sento osservato, credo che sia questo l'amore, stramazzare al suolo per un piccolo gesto. Me l'ha fatto conoscere lui, io non pensavo che due uomini potessero amarsi, invece lui mi ha dato il là in tante cose, nell'amare, nel sentirsi vivo, ed è stata anche la persona che, anche se faccio tante cavolate, però è quello che mi accompagna sempre, nelle mie cavolate lui è lì presente, che ride e mi aiuta anche a tirarmi fuori. Ironia della sorte mi ha aiutato a vivere nel mondo, quando parlo di mondo, parlo del mondo, perché non esiste il mondo omosessuale, il mondo eterosessuale, il mondo non ho solo, ce n'è uno, punto, basta, e invece lui è quello che mi porta nel mondo, e con me non si vergogna a dichiararsi ai vicini di casa, a dichiararsi nel mondo del lavoro, a dichiararsi nelle amicizie, quando incontri una persona dici, ma no, io ho il marito, perché è sempre un trauma, qualsiasi cosa, anche ironica, ma è sempre un trauma, però in realtà su questo molte persone che mi stanno vicino stanno cambiando, per fortuna. Mi ha dato anche la forza di creare una pagina che si chiama Indecisi18, è una pagina Instagram dove cerchiamo di aiutare persone in difficoltà nel dichiararsi. Mi sono reso conto che, come dicevo prima, le persone degli anni 70, 80 vivono questo come un trauma, perché erano anni un po' strani dove l'omosessualità era ghettizzata, abbiamo esempi di grandi star, tipo anche Freddie Mercury, no, che però ha preso l'AIDS e si è sempre pensato che omosessualità uguale a AIDS, invece c'è tutta una spiegazione dietro, c'è tutto un mondo che va valorizzato, che va raccontato, perché si è perso questo senso delle malattie sessualmente trasmissibili. Oggi i giovani non sanno che cosa sono le malattie sessualmente trasmissibili ed è una grande pecca. Oggi come oggi si parla solo di Covid, ma non si parla di AIDS, non si parla della sifilide, non si parla di tante cose. Ecco, nel mio canale cerchiamo di parlare, di dare informazione anche su questo, ma cerchiamo anche di far vedere questo mondo, il mondo gay, come un mondo sano, pulito e pieno d'amore. amore, anche se è molto contraddittorio, lo so, però amare è la cosa più importante e non è solo capire hai fatto sesso con quello e hai fatto sesso con quell'altro, perché tante volte, e me ne rendo conto anche nel mondo del lavoro, molti ti guardano e si fa la domanda, che Dio che schifo, come fa andare con, ma non è quello, è l'amore. C'è un pezzo prima che sembra quasi dimenticato, il sentimento, il fatto di amare, a volte sembra veramente che sia stato dimenticato, è tutto un mondo un po' frenetico dove tutti devono dire cosa devi fare e non è così, la vita non funziona così. Io sono consapevole in primo luogo di amarmi e poi di amare, sono delle cose diverse e concatenate l'una all'altra. Oggi io mi amo, sono pronto a dichiararmi davanti a tutti, lo faccio quotidianamente soprattutto con il mio canale e cerco di dare il mio amore anche alle persone che si sentono sole, ragazzi che magari si sentono intrappolati in corpi che non si riconoscono o magari capita molto spesso qualche uomo sposato che non sa come dichiararsi perché ha vissuto nel limbo, come l'ho vissuto anch'io. È una realtà drammatica ma perché non ci si ama. Quella famosa carezza che io mi facevo, vorrei che tutti se la facessero la mattina appena svegli, ti voglio bene Francesco, ti voglio bene Armando, ti voglio bene Lucrezia e via 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 via. Perché oggi non ci si ama più, secondo me oggi non ci si ama più. Sono poche le persone che riescono ad amarsi. Ho detto tante cose, mi piacerebbe anche poter fare degli esempi su come amarsi. Un esempio fondamentale sicuramente, a parte la carezza, è anche presentarsi alle persone per quello che si è. Amarsi vuol dire anche in totalità prendere se stessi e consegnarsi agli altri. Perché non ce ne rendiamo conto, ma tante persone, nonostante che magari ci guardano e abbiamo un bella maglietta, un bel pantalone, però si guardano, si chiedono ma questa persona chi è, chi non è, cosa fa, cosa non fa. La gente è molto diffidente, ma se tu invece riesci a mettere te stesso nella vita dell'altro, hai fatto bingo e ti apprezza per quello che sei. Me ne rendo conto molto spesso. Se dico una balla tutti se ne accorgono, se dico la verità se ne accorgono uguale e quindi è sempre meglio essere se stessi dall'inizio, da subito. Puoi avere anche qualche vaffanculo, va bene uguale, scusate il francesismo, ma io sono diretto. Però è così, è così. Se tu sei te stesso, fai bingo nella vita. Da bambino quando si entrava in un gruppo e prettamente erano il gruppo delle femmine, tanto per intenderci, magari si giocava con la bambola piuttosto che con la Barbie e mi sentivo accolto dalle bambine perché comunque non si facevano domande, era una cosa normale che Francesco giocasse con loro. Era una cosa positiva, una cosa bella, vuol dire essere accolto, vuol dire trovare il metodo per uscire dalla solitudine, se si deve per forza uscire perché a volte la solitudine è anche bella, anche da piccoli. Aneddoti negativi per esempio la maestra di scuola ha detto a mia mamma ma suo figlio è un diverso e mia madre, santa donna, non aveva studiato, dice diverso da chi? Da Cristina, da Silvio e non riusciva a capire. Mio padre ha cercato in qualche modo di spiegarglielo ma non riusciva a capire, per lei non era possibile. Anche queste maestre che a volte si errogano da giudice, negli anni Ottanta era molto più semplice dire tuo figlio è così, punto, poteva far male a una famiglia, poteva anche creare dello scompiglio in una famiglia, invece no. Mio padre soprattutto è stato coerente, è andato avanti, mia mamma non è che aveva capito, però capite il male che può fare una maestra a una famiglia, perché ripeto fare coming out è sempre scioccante, è sempre un qualcosa di... Io ti faccio sempre questo esempio, quando tu nasci con gli occhi verdi, non devi dire a tua mamma suonato con gli occhi verdi, quando invece tu nasci in una famiglia, cioè nasci comunque omosessuale, già fai fatica da piccolo a accettarti perché non sai che cos'è, in più devi sentire la maestra che va a dire a tua mamma determinate cose e rimani, una famiglia può rimanere traumatizzata. Nella pubertà invece ti dico, quando mi sono accorto di aver provato l'amore per quello che poteva essere l'amore, perché io mi ricordo il primo fidanzatino, nel senso guardavo quella persona che mi piaceva e volevo star con lui, me lo ricordo ancora molto bene, era un bel ragazzino, un bel bambino. Da una parte ero contento, felice, perché comunque provavo un qualcosa di grande, ma c'era detto un'amarezza, perché comunque sapevi che quella cosa era irraggiungibile, irreale, perché il ragazzino di turno comunque amava un'altra bambina o comunque stava nel pubertà delle ragazze e quindi dici, ti chiedi, ma sono il solo a provare questo o sono in compagnia? A volte anche qui entri in una solitudine molto strana, perché vorresti ma ti ritrai indietro, non hai gli strumenti per e a volte ti senti veramente da solo. Per quanto riguarda invece il mio convento, ci sono state tante cose belle che ho affrontato, anche, e questo lo dico con un'estrema gioia, molte famiglie mi raccontavano dei loro bambini, dei loro ragazzi che magari avevano tendenze omosessuali e lì ho cercato di aiutare la famiglia facendola vivere più naturale possibile, ma capitava molto spesso e anche là mi chiedevo, ma perché lui sì e io no? Perché lui deve vivere la sua vita e io invece sono costretto qua? Quindi se da una parte c'era la gioia nell'aiutare, nell'accogliere, da un'altra parte c'era il dubbio, ma io? Perché a lui dico così e invece a me mi reprimo? Per quale motivo? Eppure anche io potrei vivere la vita normale, da virgolette normale perché poi la vita non è mai normale, però mi facevo queste domande e poi quando sono uscito, nonostante la sofferenza del sentirsi umiliati, della violenza sessuale, del fatto di non sentirsi più nel tuo corpo, però come la rama finisce ho dovuto riprendere tutti i miei pezzi e corazzarmi, che non è stato facile. Però c'è il bello che sei vivo e quindi quando ti accorgi che il bello che sei vivo le cose brutte sono momentanee, non c'è cosa più bella che svegliarti la mattina e sentirti vivo, respiro, sono qua, sono io e sono cose grosse queste perché molte persone questa cosa è un passaggio che non lo percepiscono, anzi ci sono persone che addirittura che conosco che vorrebbero gettare la propria vita in un cestino, invece no, la vita va vissuta per quello che si è, è per quello che si può fare, assolutamente. E poi l'amore, l'amore è la cosa più bella che c'è al mondo, quando lo trovi è raro, perché lo so che è raro, non sono stupido, però quando lo trovi ti si apre il mondo, è il mondo vissuto con gli occhi dell'amore e tutt'altro, ma dell'amore libero, nel senso dell'amore che si può parlare alla luce del sole, dell'amore che può essere veramente prendere il tuo compagno per mano nella piazza più grande, più frequentata e dire lui è mio e lui dire io sono tuo, perché l'amore è questo fondamentalmente, condividere giorno per giorno con la persona che veramente ti stramazza al sole appena ti guarda e sai che tu sei per lui e lui è per te, ma questo è l'amore è uguale anche eterosessuali, omosessuali, trans, l'amore è uguale per tutti, l'amore è quella unione di due persone che si amano con la maiuscola, è il passaggio dell'amore che si dà tutto per scontato, oggi ci si sposa tanto c'è il divorzio, l'amore è un'altra cosa appunto, l'amore è proprio un'altra cosa. Vabbè quando sei piccolo per esempio mi sono sentito tante volte parlare la parola frocio, benché non sapessi io che cosa voleva dire e benché io non sapevo neanche se lo fossi o no, quindi questo era un aneddoto, cioè una cosa che mi capitava frequente, quindi cercavo sempre di richiudermi a riccio, oggi invece quando disgraziatamente qualcuno ne parla mi dice, ma quello lì è frocio, dico beh che c'è qualche problema, anch'io sono frocio, che c'è qualche problema, è il corazzarsi, oppure per esempio come ho detto una volta, siccome ho un lavoro in un ambiente prettamente maschile, noi abbiamo per i maschi la cravatta e per le femmine il foulard, quando sono diventato primo agente Lombardia praticamente sono andato a ritirare il premio con il foulard, con il mio capo che mi voleva ammazzare e invece il presidente della mia azienda, che era tutto divertito, contento, pensavo che avessi fatto uno scherzo, ma in realtà non era uno scherzo, era una provocazione, perché fondamentalmente io sono un buon provocatore, e quindi volevo in qualche modo provocare, ma l'effetto non è stato recepito, ma la risposta poi del mio capo è stata, lei ha un gran ben coraggio, complimenti, oppure per esempio con il gruppo che ho attualmente, vengo invitato al Gay Pride, vivo la vita alla luce del sole, vengo invitato da alcune manifestazioni, vengo invitato da alcuni locali, vivendo tutta la luce del sole e cercando di capire se ci sono persone che hanno bisogno di uscire fuori dal guscio, cerco di far venire fuori le persone. E' importante questo passaggio, perché sembra che nel 2022 tutto sia alla luce del sole, ma non è così, ma non è così, ci sono ancora tante persone che vivono nascoste nell'ombra, e io ho deciso di non vivere più nell'ombra. La cosa che cambierei da piccolo è essere più forte, cercare in qualche modo di essere me stesso da lì, cercherei subito aiuto da piccolo, perché è importante, è un passaggio molto importante, aiuto nel senso cercare persone che mi siano simili, o confidarmi con qualche amico da subito, perché non facendo questo passaggio a volte c'è sempre il pericolo di fare dei gran casini, punto fine. Mentre invece adesso qualche rimpianto ce l'ho, probabilmente avrei vissuto la vita in maniera più serena e tranquilla se avessi evitato determinati passaggi, che poi sono inevitabili, perché se oggi sono la persona di oggi e per tutto il mio trascorso, il mio passato, avrei cercato di essere più astuto, cercare in qualche modo di non farmi fregare da subito nel mondo, però anche nelle fatiche mi sono corazzato, anche nelle fatiche mi sono, ho cercato di prendere la vita di petto, costruendola, perché dovendola ricostruire ancora giorno per giorno è stata dura, ma questo è l'impianto, sì, di dire subito tutto per com'è, di dirlo con gli occhi di un bambino, mamma, papà, questa è la realtà, senza nascondimenti, senza repressioni, senza dover nascondersi. Ho visto qualche diretta in passato e chiedevano che cos'è la vita, la vita è proprio amarsi, la vita è amarsi, amarsi giorno per giorno, cercare di migliorarsi, questo sì, ma amarsi per quello che si è, per il proprio carattere, per il proprio modo di prendere la vita e dire, io sono questo, sono qua. E questo manca, a mio avviso molte volte manca. Non si ha le palle di guardarsi allo specchio e dire, guarda io sono così, punto. No, bisogna avere le palle. Non è facile, bisogna essere aiutati, sicuramente, ma una volta che lo fai ti si apre un mondo. Vivi la tua vita, il tuo mondo, per quello che sei, per chi sei.